Lector in fabula tutto l'anno al via una serie di incontri e presentazioni a cura del presidio del libro di conversano che accompagneranno il pubblico nelle meraviglie della letteratura e dei saperi gli incontri si terranno nella biblioteca di comunità che sarà presto realizzata nel monastero di san benedetto grazie al progetto granai del sapere è stato presentato dalla fondazione di danno e dal comune di conversano al bando smart in puglia sulle community library finalizzato al recupero e valorizzazione di spazi inutilizzati ha inaugurato il ciclo di appuntamenti la giornalista lorenza foschini proust racconta come mai come può accadere che un uomo colto brillante elegante un uomo che andava a pranzo col principe di galles che faceva parte del jockey clip possa perdere la testa e desiderare di morire per una donna che come dirà alla fine del primo volume non era neanche il mio tipo perché questa poi è la battuta che dicevo però ho desiderato di morire ho sofferto ho pianto mi sono ammalato per una donna che poi non era neanche il mio tipo cosa scopre proust cosa ho scoperto io leggendo proust che parlavamo appunto non a caso prima di freud che noi amiamo una persona non per quella persona che di fronte a noi ma per tutto quello che noi diciamo riflettiamo in lei dei nostri ideali grazie a tutti